Io invece ho visto la morte a 5-6 metri da me. Era una ferocia, era odio etnico, raziale, perché uccidevano gli italiani, i ragazzi, gli italiani. Se erano comunisti li uccidevano perché prima di dire io sono comunista dicevano io sono italiano. Allora, hanno ucciso anche coloro che erano della loro ideologia ma erano italiani. Era uno spettacolo terribile, atroce, terribile. C'era sangue da me. Io non ho sentito, non ricordo, un lamento da parte del figlio. Era una cosa terribile. Era proprio la violenza pura che neanche le bestie. Perché le bestie ammazzano per mangiare. Invece c'era proprio l'odio raziale. Una storia fatta di orrori, di sacrifici e di eroismi di gente semplice strappata dalle memorie più care è quanto ha raccontato oggi Anna Maria Fagarazzi e gli studenti della Scuola Media Vittorelli. Storie di persone il cui unico difetto era quello di essere degli italiani.